Il prossimo 21 luglio Blanco si esibirà sugli spalti delle mura, la location riservata ai grandi ospiti del Lucca Summer Festival. L'annuncio ufficiale è arrivato dopo giorni in cui si rincorrevano le voci sul possibile trasferimento del concerto del vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo dal palco di Piazza Napoleone a quello fuori le mura, in seguito ai numeri record registrati al botteghino. Gli 8.000 biglietti in vendita sono andati infatti esauriti nel giro di due ore e molti fan dell'artista, pur avendo fatto lunghe code all'esterno delle rivendite per aggiudicarsi un ingresso, sono rimasti a bocca asciutta. Con il cambio di location si riaprono le vendite e la possibilità di assistere al Blue Celeste Tour dal titolo dell'album d'esordio del cantante. I nuovi tagliandi saranno disponibili dalle ore 14 di martedì 15 febbraio sul sito del Lucca Summer Festival. Il cartellone della manifestazione musicale intanto si arricchisce di date confermate, senza escludere per il momento l'arrivo di qualche altro grande nome del panorama musicale internazionale. Si parte il 25 giugno con Nick Mason, il giorno successivo sarà la volta di Paolo Conte. A luglio sono attesi Liam Gallagher e Ica Zabian, John Legend e ancora Robert Plant e Alison Krauss, Ben Harper, Blanco e infine la chiusura prevista della Kermess, il 24 con Brunori Sass.